Musica Dopo 6 giorni di intense ricerche, Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni, rapita questo martedì, nei Vosgi, è stata ritrovata oggi, 18 aprile, insieme alla madre, in una casa in Svizzera. La conferma arriva dal pubblico ministero di Nancy-François Perain. Si trovavano nel comune di Saint-Croix. Le indagini hanno permesso di accertare che Lola Montemaggi, la madre della bambina, aveva trascorso una prima notte in Svizzera in un hotel a Istahiele Lac, prima di essere stata accolta da una donna a Nof Chanté, per poi trasferirsi in un'abitazione privata di Saint-Croix, spiega François Perain in un comunicato stampa, e poi ha colto l'occasione per ringraziare le autorità svizzere per questo straordinario investimento che ha permesso di localizzare in brevissimo tempo la fuggitiva e sua figlia. Quasi 200 gendarmi sono intervenuti nell'ambito di questa inchiesta condotta dal 13 aprile, ha spiegato il magistrato.